Il primo è sempre il primo, comunque sempre stessi posti dell'anno scorso, non me l'aspettavo perché comunque ho trovato circa un paio di chili di eritropus prima e poi finalmente l'ho trovato ed è anche proprio proprio bello 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 bello. E' veramente veramente bello, freschissimo, siamo passati sabato io e i miei fratelli non c'erano e questo qui è veramente veramente bello.